E' bello a tutti ragazzi, qua che parla è TEEE GAMES! Oggi sono la compagnia di Giampiero, BELLA AGENDA! Come vedete siamo su una nuova serie, e aspetta io sono i rangers e siamo su KF2MOTORORF2, siamo su KF2MOTORF2 e stiamo a partita di 5 minuti io contro di Giampiero, vediamo chi vingerà ragazzi, facciamo due partite di 5 minuti, vedi che ora si legge là? Si ora si, poco fa la schiena è più grande, non si leggeva niente, e niente, allora vediamo Siamo sulla mappa, mappa Terminal, dove sei? Ma che non, fai schifo, fai schifo, ci vediamo bene racconto che lì, comunque si è qua dentro, mi sono sicuro, che piano sopra, ok, ce l'ho fatta una zero per me, se sopra, dobbiamo ricordare che io ci gioco quasi sempre questo gioco e Giampiero no, io gioco male, in questo gioco sono un nabbo ragazzi, sicurissimo, ok Giampiero che fai, ragazzi bello eh, non mi racconto, io sono quello di sopra, io sono quello di sopra, esempio è quello di sotto, allora andiamo dentro l'aereo, perché mi fa passare, ok, andiamo dentro l'aereo ragazzi, andiamo in Brasile, Brasile, ok, ucciso, allora è giusto, non me lo ti vedo, scoppa mia, tu puoi guardare dove sono io, perché la mia mappa, vedi già dove sono, si però, mi devo aggiungere per dove cammino io, qui non si può passare, mi sono spaventato, vedi qua ti aspetto qua, dove aspetti, allora fai, mi fai, mi fai, mi arrivo, mi aspetti, un attimo, mi dici, mi aspettavo, c'è pure io il bazooka, ok, ok, ti vedi, dove sei? L'hai spiegato, eh, meglio, però, quello si vuole vedere, no, forse puoi scavalcare, non mi ricordo, no, ecco ragazzi, vaffanculo, come? Vaffanculo, ragazzi, mi sei arrabbiato, ora mi vendico, c'è un problema ora, ho l'elicottero che mi può portare le munizioni, però sono dentro, cosa faccio? devo uscire fuori, ragazzi, usciamo fuori, così l'aereo mi può portare le cose, ah, già abbiamo sull'aereo, come facciamo? non ho sbagliato, ho sbagliato, ho usato il missile, no, 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 non ti vedi, non ti vedi, non ti vedi, non ti vedi, non ti vedi. Dove sai? Ok, sapendo a l'elico spararti, cosa? scappa dentro vai dentro il pioe dentro 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 abc sono tu a sperare ecco c'è un vero no dimmi no 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 gesto dentro riesco sto dentro no non c'è niente c'è già 300 punti tu io sto a 150 che schifo sei a zero tu è a zero perché ho detto quel numero eh vabbè tutto posso sbagliare dove sai no per favore non lo sarei no no non posso uscire da qua stai dicendo che culo ah il culo non c'è stato io non capisco non riesco a capire dove sai la tua posizione non riesco a capire non lo so si vede che sono credito in questo gioco finalmente ragazzi finalmente l'ho sciattato io ho 400 punti e lui haci un mantra ah sempre meno di niente in questo gioco lo sai che non ci gioco che c'è ho perso allora io otto volte lo uccise e lui uno sempre meno di niente ragazzi facciamo la seconda abbiamo mappa mettiamo questa ma un attimo che 5 minuti inizia la westland faccio con lo scuola di me per riparare i piedi di avere massa protezione ma io scudo non lo prendo ma io non lo muoio sotto lo scudo all'itf e tu sopra unità unità ok 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 evitare di most anti sommosso di due stanzi ma non mi hanno visto qualche anno e vedete io forse la postoporto portombo o comunisti ragazzi c'è di accesso ai domini di comunisti e non mi rende le comuniste ma lo sto dicendo tu mi stai vedendo ne sono più che sicuro eccolo sapevo eccoci eccoci ragazzi intringea vediamo se mi trova si in mezzo all'ermati no no farmati no non sei là no no voglio però posso capire dove sei ma dove sei? al simbolo alla statua eccoci io sto proprio davanti alla statua un cretino veramente ancora bazooka boom vai e vai una bella mossa vabbè due volte mi ho ucciso ancora c'è tempo posso recuperare ma questa mappa è più difficile in questa mappa io non capisco nemmeno dove sai non si capisce niente questa mappa cioè tu secondo me sai dove sono io ma io non so dove sei tu lo vedi? lo vedi? se hai passato davanti questa mappa lo sapevo è bello ti puoi ascendo in mezzo all'erba e poi se non ti vede ti vedo sei là sotto sei tu? no sei tu? si sei tu no no nesco te lo dico non riesci ok allora ti uccido io ragazzi non dai non te ne capisci chi sta sparando si è capito che sta lì in mezzo ci sono le nostre d'acqua sono vicini vicini Giambiero mi sei passato accanto mi sei passato accanto no allontanati 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 è vero no no lei va di morte perché scappi perché un mitragliettore gigante in mano solo in mano hai anche qua hai anche un bazooka dietro ecco ah è di solito buona però non sono fuori dietro le bazooka io si aspetta c'è ancora la bazooka no adesso è un albo io sono dove c'è la statua ah ecco tu prima o poi ti devi girare mi sono girato ecco 23 secondi dove fai questa cosa perché ho avuto con la regata eccoci un altro odore o basta no un altro che si piacerebbe no dai per fa fai schifo fai schifo guardiamo lo spettacolo ragazzi ho vinto anche questo vabbè questa volta però con meno punti dai un'altra sì certo facciamo un'altra ragazzi dai allora cambiamo sempre la mappa mettiamo no questa volta lo sceglieri io tu hai scelto poco fa quale era dell'aeroporto sì carichi carichi facciamo l'ultima certa cosa pure se vi piace questa serie mettete un like scrivete nei commenti ragazzi a 10 like facciamo una challenge sempre su su call of duty poi facciamo anche delle missioni io e lui di sicuro però io sono sei al faremo anche delle partite io e lui insieme contro altri aspetta un po' non bene per te faccio le missioni possiamo fare con il prossimo video allora sai che vi dico non so che che armamenti sai che vi dico dopo questo video significa tra un paio di giorni uscirà lo stesso video però io e giambiero contro altri va bene giambiero sì per me va bene per me non li so più forte allora c'ho io accanto a te che ti difendo facciamo una squadra a caso di uscire aspettavo subordorare qualcuno in delle varie sella si ok grazie perché hai detto io ho sparato così a caso mette sella si va bene allo sporo qua riesco mai a prendere la mia cosa non vale il fatto a a la hai c non si capisce vado per questo l'involuzione ma poi li vedo ma lo aspetta venga a casa tu, a casa sei in questa casa? nooo vediamo se sei qua ah si è così fanculo guarda qui fuori allora c'è vero se sei qua dentro nooo ok allora vediamo se sei qua nooo c'è vero finisit così che video o quando vuoi fare un uccino c'è vero ecco sei nooo non sopportiamo più a Daniele troppo forte buttiamo qua stai mettendo in cielo guarda il cielo non ci tengo oh oh guarda qua si nasconde guarda qua si nasconde guarda qua si nasconde aspetta sei qua dentro nooo nooo non sai non sai dove sei c'è una scena tutto cavolo sai non lascia aperto nooo ecco ti il muro di gesso com'è nooo devo caricare non vedo niente sì sì ce l'ho fatta mi ha ucciso ragazzi è meglio così mi sono arrivato ho capito dove buttare dove stare ragazzi non vuoi però così chi ha detto non c'è piacere che ho adesso qua e non c'è anche hai ragione dai non male 30 secondi secondo me puoi restare dove hai tanto tanto per 30 secondi te lo scordi non vuoi dimenticare voglio sentire ah perchè non me lo li tutto ho buttato anche questa partita è vinta allora ragazzi questo video è tutto vi ricordiamo di mandarci le richieste amicizie sul nostro profilo facebook lasciate un like un commento e iscrivetevi al canale vi portiamo in questi giorni subito la partita io e lui insieme e vediamo se questa volta vado meglio io ma io lo difenderò e ci vediamo al prossimo video dalla agenda